Il betting è chiaramente indirizzato su Dharma Marco Jet. Il countdown è a zero e la macchina prende il via. 1 Diablo Baitoni e Gaetano Di Nardo. 2 Dorian Jet e Vincenzo Luongo. 3 Decon Romolo Sani. 4 Dailan Criss, Dario Battistini. 5 Dado SL, Salvatore Legittimo. 6 Dora Clemar, Filippo Gallo. 7 Dharma Marco Jet, Giussi, Samarese. 7 Dario. Allinamento che si va formando tutti in prima fila. Per ora indietro Decon. Rimane ancora una lunghezza rispetto all'autostart quando la macchina accelera. Lo stacco che avviene in questo istante. In train lotta per il comando. Si ritrae Dharma Marco Jet, rimane alla corda Dailan Criss a precedere Dora Clemar. E così Dailan Criss sfida il comando. Dora Clemar scende la corda. Prova a farlo anche Dharma Marco che poi però sceglie di andare per linee esterne mentre rimane in terza posizione della corda Diablo Baitoni. Si completa così il primo quarto di gara con adesso Dharma Marco Jet che dopo un 29.9 dei primi 400 metri prova a portarsi sul battistrada. C'è il via libera. Dharma Marco Jet passa al comando al paletto dei 600. Può scendere alla corda in 45 e mezzo. Ha preso intanto la via del largo. Intanto c'è un problema per Dharma Marco Jet che finisce in errore e si viene squalificato. Ha preso la via del largo Dado SL. Rimane così al comando dopo 800 metri in 1 e 2. Dailan Criss che ora affronta la dirittura di fronte da leader nei confronti sempre a questo punto del numero 6 Dora Clemar all'esterno Dado SL. 1.17.7 il chilometro. L'errore di Dado SL. E allora Dailan Criss che cerca a questo punto la fuga nel tentativo di staccare da Dora Clemar. Mentre si ingamba per linee esterne anche Decon quando siamo al completamento della piegata. Dailan Criss che entra addirittura con 1 e mezza di margine nei confronti di Dora Clemar. Poi Decon c'è stato l'errore anche per Diablo Baitoni. Dora Clemar che va su Dailan Criss il quale cerca la difesa anche allargando un po'. Dora Clemar che va per linee interne. Dailan Criss che si difende. Ultimi metri Dailan Criss che si mantiene in evidenza. Dailan Criss su Dora Clemar e Decon. Nel finale la vittoria per Dailan Criss. Quindi Dario Battistini con i colori della chicca blu. Mago d'amore o carina jet per questo maschio di tre anni. Che si è ritrovato al comando dopo aver concesso via libera a Dharma Marco Jet. Ma quest'ultimo in errore lo ha lasciato in testa da solo. E a quel punto Dario Battistini ha scelto di correre al comando. E nel finale pur allargando Agli contenuto il ritorno di Dora Clemar. 2-2 scarsi sul cronometro. Nell'ordine dell'1.16 la media per chi vince. Ovvero il numero 4 davanti al numero 6 Dora Clemar. E al numero 3 di Decon. Questo l'ordine d'arrivo della seconda. Dario Caponella. Dario Caponella. Dario Caponella. V affirmato. Dario Caponella. Grazie a tutti